Secondo video di giornata, dopo il video di Berlusconi, facciamo il video sull'Inter. Perché parliamo sull'Inter? No, non è ossessione, è verità, è verità, ragazzi. Intanto si gode ancora, perché si gode ancora, si gode ancora. Allora, perché facciamo questo video totalmente sull'Inter? Totalmente sull'Inter, perché? Perché ci sono venute fuori notizie messi a tacere, perché vi ripeto che io seguo qui 4-5, come si dice, estenuamente? Sì, mettiamola così, seguo qui 4-5 che le cose le sanno perché hanno le fonti. Poi il Sergio è un giornalista, è uno che va in fondo su tutto, si documenta perché non spara cagate quello lì. Poi come personaggio sarà quello che è, potete dire quello che volete, ma lui dice la verità su queste cose qua. Non racconta palle. Allora seguivo un video del Sergione ieri e ragazzi, sono andati in sede. Hanno messo tutto a tacere, ma ha detto che questo verrà fuori tra poco, verrà fuori tutto quanto. Per il momento sono riusciti a mettere a tacere, a non far venire fuori sui giornali, in televisione. Il fatto che, sapete che il cinesino è andato a chiedere di nuovo un prestito a quel OCTRE, per rifinanziare il debito, per coprire i buchi. Ovviamente questi qua li hanno andato a fare in culo. Addirittura si sono presentati con la finanza e i proprietari di questo OCTRE in borghese, nella sede dell'Inter ieri. Ragazzi, questa è una bomba, eh? Questa è una bomba. Quando vi dico che adesso incominceranno i guai seri per l'Inter, i guai seri, dopo ovviamente loro, ovviamente adesso c'era molto clamore per la morte di Berlusconi, erano tutti che parlavano di quello. Allora, come dice il Sergio, è andato in secondo piano questa cosa, no? Non l'hanno notata tanti, ma lui, che è un dritto, queste cose, questo li ha beccati. Li ha beccati. Adesso dicono che verrà fuori la notizia di tutto questo. E insomma, i creditori incominciano ad andare nella sede dell'Inter. Prima ha cominciato... Questi sono americani. Americani. Là in Cina è già stato denunciato. Difatti lui a casa non va mai, non va mai a trovare il padre, perché se va lì lo arrestano. Sicuro lo arrestano. E gli americani sono venuti in Italia, sono andati nella sede dell'Inter, ragazzi. E io godo, e io godo, e io godo, perché incominciano. Incominciano perché non puoi scappare sempre. E si parla che questi qua riusciranno a mettere le mani sopra, sopra, sopra alla squadra. Si parla, però, questo non so darvi per certo, ma pare che questi hanno già le mani, le mani sopra l'Inter. E infatti si sono presentati lì, ragazzi, con la finanza in borghese e con i proprietari di questo OCTRE, che non so neanche che cazzo è. Tu hai poco, nonno interista, bastardoli, cagone del cazzo, di rompere le palle. E voi siete lo stesso, perché voi siete processati per plusvalenze, perché imbrugliavate. Invece noi abbiamo solo i debiti. Non è vero, non è vero. In una maniera o nelle tassette ladri, se tu vuoi dare dei ladri, degli schifosi, a me non me ne frega niente. Però io continuo a ripetere che quando uno va a chiedere, mettetevi adesso, fate un ragionamento, voi andate a chiedere un prestito, un prestito di anche un euro, anche un euro, ve lo danno. E tu non restituisci i soldi, vuol dire che sei un ladro, che sei un ladro. Sei un delinquente anche tu, quindi non cercare di girare la frittata dalla tua parte, nonno interista, bastardo. Sei un ladro, quello che fa il tuo cinesino, che va a farsi prestare i soldi da tutte le parti, poi ci sono anche altre cose lì, un altro processo, ha anche altri processi, quindi la siamo per... Quando tu vai a farti prestare i soldi e non li restituisci, sei un ladrone. Questo volevo dirvi come secondo video. Sono contento perché cominciano a rompergli le palle seriamente a quelli là. Poi ovviamente loro hanno i poteri forti, ripeto, dalla loro parte, che riescono a mettere a tacere tutti, a nascondere le baggy, come fanno sempre, come fanno sempre. Invece ovviamente a noi, sempre cosa rischia la Juve, è la Juve di qua, è la Juve di là, perché abbiamo una società di incompetenti, per non dire altro. Per non dire altro, perché non ho voglia neanche di rovinarmi la mattina pensando, parlando di Ailkheim, quell'altro schifosissimo che è andato lì in Olanda. Due personaggi... Comunque questo volevo dirvi sulla prescrittese, si sta muovendo, come vi dicevo io, arriveranno i guai seri, i guai seri. Adesso incominciano, incominciano. Poi vedremo da parte cinese come si comporteranno, perché arriveranno anche quelli là. Andrete a finire anche voi in un fondo, come è successo il Milan, poi quando vai a finire in un fondo, avete visto del Milan, si è vinto uno scudetto, ma a quelli là di vincere non gliene frega un cazzo, a quelli lì gli interessa di far soldi, di far soldi, e non spendono soldi, non spendono soldi perché vogliono farli i soldi. Quindi andrete a finire in un fondo, anche voi, non vincerete più un cazzo, anche se quello che avete vinto ultimamente, sì, le Coppe Italia, le Supercoppe, le vinceva anche la Lazio, le vinceva anche il Milan, anche la Fiorentina vinceva quelle robe là. Ma il succo, quello che dico io, il succo, sono altre cose, sono Scudetto e Champions League. quella che, anche voi, come dico, come mai, in Europa non vincete mai, neanche voi, lì è il, come dico io, l'app, il succo, il succo, è lì. Questo volevo dirvi, sulla prescrittese, un saluto a tutti, iscrivetevi al canale, come dico sempre. volevo, volevo, ma questo è buon parlermi in un altro canale, su come fare, se qualcuno sa come fare le caricature, no, da mettere su all'inizio del video, sapete, tipo la vignetta, perché sto ancora aspettando uno, uno della chat, uno che dovrebbe, che dovrebbe essere mio amico, ti ha detto, io non preoccuparti, ti faccio io tutto quanto, poi gliel'ho detto la seconda volta, poi io non insisto, se vuoi, se vuoi farmi un favore, spiegarmi come, come, come si fa a fare sta roba qua, boh, se no io non è che ti corro dietro, troverò qualcun altro che mi dia una mano a fare, sapete quando, quando incomincia il video, che vedete la vignetta, no, metti quello, metti quell'altro, adesso non so come spiegarvi, comunque penso che abbiate capito, devo trovare uno, se qualcuno sa, magari come si chiama il programma, magari me lo scrive sotto, poi vedo io di lavorarci, ha detto questa persona, che è semplicissimo, però sono ancora che aspetto, che questo qua si faccia sentire, mi dica Michele, ha detto che mi faceva anche il video, che mi mostrava come fare, però, parole, 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 ciao ragazzi, un bacione a tutti, belli e brutti, ci vediamo al prossimo.